Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio parlarvi di un profumo di Dior, una versione diversa da quello che conoscete di solito predecessore, famosissimo e stiamo parlando di Hypnotique Poisson, la versione Eau de Parfum, quindi quello che è nato, il profumo che è nato nel 2014, che ha in realtà ereditato tantissime somiglianze con il classico Hypnotique Poisson che nasce in realtà nel 98, che però a sua volta ha fatto un pochettino questi ultimi anni di storia. Il packaging è veramente bellissimo, il colore diventa più intenso, più liquoroso, quando l'ho sentito io sono stata amante di Hypnotique Poisson e di Toilette, l'ho utilizzato, l'ha utilizzato anche molto mia sorella e a un certo punto ci siamo dette, vabbè è così tanto usato in giro che lo si sente sempre ovunque, io utilizzavo Alien, lei utilizzava Hypnotique Poisson, quindi avevamo queste signature precise per tantissimi anni e poi alla fine abbiamo detto vabbè, visto che è così tanto utilizzato, noi abbiamo un po' avuto, non la nausea, però l'abbiamo usato così tanto che l'abbiamo un po' lasciato poi in disparte. Nel 2014 poi è uscita la versione Eau de Parfum che ha delle note completamente o comunque quasi completamente diverse dal suo fratellino prima. È sempre un orientale vanigliato, quindi la sua base iconica di vaniglia rimane. Cambiano ovviamente le note. Come note di testa inizialmente troviamo la liquirizia e la mandorla che sono secondo me, a mio avviso, le vere protagoniste di questo profumo. La liquirizia molto molto amara, la mandorla in realtà molto molto dolce e lattea se vogliamo e hanno un'apertura a bomba proprio, veramente veramente fantastica. Liquirizia allo stato puro, io adoro l'odore della liquirizia, mi piace tantissimo anche assaporarla e qua la ritrovo pienamente. Come note di cuore invece abbiamo il gelsomino di sunbac e i fiori d'arancio. Qui devo dire che sono meno presenti rispetto allo de toilette perché qua è un profumo molto più dark, più liquoroso e abbiamo due note come note di fondo che veramente sono meravigliose ed è la vaniglia e la fava tonca. Allora, che cosa dire di questo profumo? Rispetto al suo fratellino de toilette è molto molto più dark, molto più penetrante, misterioso, molto molto sexy. Appena spruzzato avete queste note di liquirizia che fanno da padrone, poi in realtà il gelsomino si sente, ricorda in qualche modo, molto vagamente ragazze, alien. Ha questo senso proprio di gelsomino assoluto che predomina un pochettino sulle altre note, soprattutto dopo qualche minuto che lo spruzzate, quando la liquirizia tende un pochettino a sparire, rimane questo fondo di gelsomino molto forte per poi adagiarsi, ovviamente come fa il fratellino più ipnotique, su una meravigliosa vaniglia e fava tonca. La fava tonca non è particolarmente espressa in questo profumo, si sente più la parte della vaniglia, però veramente succoso, licoroso, ipnotico, è veramente una versione molto molto più intrigante, a mio parere, delle versioni di l'ipnotique poison du toilette che a lungo andare è un po' stanca perché è sempre abbastanza lineare come profumo, invece qua si ha proprio un escalation di tutte le note, dalla liquirizia al fiore d'arancio, al gelsomino, alla fava tonca, alla mandorla, a tutti gli ingredienti che si sentono olfattivamente. Come voto durata di questo gioiello meraviglioso che mi ha fatto ripartire la voglia di indossare queste note olfattive tipiche di poison, do un 9 su 10 perché comunque sugli abiti, sulla pelle tende a rimanere tantissimo. Il voto di sillage invece ragazzi è un 10 su 10 perché ci sono delle note che veramente riempite una stanza con uno spruzzo di questo profumo, quindi state attenti ad usarlo e a calibrarlo perché potrebbe essere un'arma letale per i nasi che non sopportano queste note ed è un ottimo ottimo sostituto per chi indossa ipnotique poison ma in realtà è un po' stanco. Qui invece abbiamo una riformulazione un pochettino più interessante, più complessa, con una piramide olfattiva meno disordinata se vogliamo e con tutto tutto la dolcezza e la parte ammagliante di questo profumo che nasce in realtà proprio per essere poison, avvolgente e velenoso quasi, ammagliante e narcotico, quindi questo è un profumo che ho comprato volentierissimo, lo sto centellinando, questa è una versione da 50 ml e sono contentissima di aver riscoperto ipnotique poison nella versione però Eau de Parfum. Ragazzi anche questa volta abbiamo terminato il nostro video, se siete amanti di ipnotique poison, la versione Eau de Toilette ma comunque cercate qualcosa di più profondo e penetrante andate a sentire in profumeria assolutamente ipnotique poison la versione Eau de Parfum, la trovate tutte vicine, ovviamente sono tutte simili il packaging però ha una confezione più scura. Se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video, un bacio, let's talk about!